Un veicolo speciale in grado di produrre e stoccare autonomamente energia rinnovabile mediante idrogeno. Lungo circa 15 metri è in grado di espandersi durante le soste fino a occupare una superficie di quasi 100 metri quadrati, con un laboratorio nella motrice e una sala multimediale nel rimorchio. È H2M, furgone realizzato dalla fondazione H2U The Hydrogen University, con sede a Monopoli, in Puglia. A bordo del veicolo anche una stampante 3D in grado di produrre oggetti sia in plastica che in ceramica, il tutto nel segno di un modello energetico e produttivo alternativo e rinnovabile. Il progetto itinerante ha preso il via a destinazione Parigi 2015 per la conferenza sul clima.